ecco tutti i messaggi che arrivano 20.09 sulla piattaforma non si è capito nulla più ma non solo amici miei come vi ho detto è uscito due volte vi ho fatto vedere qua 22.29.90 oggi ho ascoltato i consigli dell'EU la triade 22.29.90 è come se non bastasse questa si 22.29.90 per farvi capire abbiamo giocato anche a 10 all'8 all'8 e a 10 all'8 e peccato 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 per il 29 veramente un grande peccato e da dove è venuto fuori il 90 ve l'ho detto voi che avete il mio busco eccolo qua a primo colpo primo letto questo era di pasto ci sentiamo dopo per il primo piatto wow wow